Credo che sia l'operazione di rimozione dei rifiuti e di bonifica più impegnativa d'Europa. Come sapete abbiamo diviso in tre filiere il problema ecoballe. 800.000 tonnellate da portare fuori dalla regione Campania, con due gare che sono state espletate. Una seconda filiera per la produzione di compostibile secondario solido, per altre 2.400.000 tonnellate. E' un recupero di materia dal riciclo per la terza filiera, che ci consenterà di recuperare i due terzi del materiale accumulato. Oggi, a parte un altro dei cantieri per la rimozione dell'ecoballe, Ponte Riccio, altre 125.000 tonnellate di ecoballe. Complessivamente, rispetto alla prima filiera, rimozione e trasporto fuori regione dell'ecoballe, siamo al 22% delle 800.000 tonnellate previste. Diciamo che entro l'estate contrattualizzeremo Caivano e Giuliano, cioè l'operazione di produzione di compostibile secondario e di vagliatura ulteriore. Su Villaliterno che non si riesce ancora ad assegnare la gara numero 8? Stiamo verificando la possibilità, sempre con l'autorità anticorruzione, di estendere l'appalto alle imprese che si sono aggiudicate gli altri lotti. Non abbiamo in previsione nessun'altra gara. Quindi contiamo di risolvere in questo modo il problema. Contiamo di risolvere in questo modo anche un altro problema che non abbiamo ancora affrontato ed è la rimozione di 100.000 tonnellate di ecoballe stoccate nell'area militare della caserma di Persano. E anche lì dovremmo cercare di dare un'accelerazione. Ma, come sapete, i tempi delle nostre decisioni sono sempre vincolati ai pareri, alle valutazioni preventive dell'autorità anticorruzione. Abbiamo completato Masseria del Re, mi dicevano i tecnici. Quindi le prime 150.000 tonnellate sono state tolte ed è un mezzo miracolo. Abbiamo, lì dove c'è una montagna di rifiuti, un'area libera. Abbiamo avuto un incontro la scorsa settimana a Bruxelles. Abbiamo fatto partire una gara per la progettazione di 15 impianti di compostaggio. Il sistema completo regge se realizziamo impianti per il trattamento dell'umido. Se diciamo no ai termovorizzatori, come abbiamo detto no, abbiamo eliminato la previsione di altri tre termovorizzatori. E chiaro che dobbiamo dotarci di un'impiantistica seria per il trattamento dell'umido. E quindi procederemo entro questa estate alla progettazione di altri 15 impianti di compostaggio che risolveranno in maniera definitiva il problema del ciclo dei rifiuti nella regione Campania. Uno degli obiettivi strutturali del programma del governo regionale.